e comunque vada spero di trovare un po' di 4 stelle anche se trovo una barbara ragazzi dobbiamo sperare di trovare una barbara più di uno ciao perché così ho la sesta barbara così possiamo almeno restare la gente sarebbe bellissimo allora iniziamo a fare i predict iniziamo a fare i predict allora esce sicuramente un 5 stelle perché sono più di 90 pull quindi comunque un 5 stelle che sia ora subito all'inizio che sia con la novantesima esce in rate up abbiamo Xiao quindi c'è il 50% di probabilità che esca lui e il 50% che esca uno fra Diluc, Cici, Keqing, Mona e Jin io sono disperata perché purtroppo ho sempre trovato il PG del banner e quindi anche a questo giro io ho il dubbione mi esce l'uno mi esce l'altro se avessi trovato non gano allo scorso e magari adesso avrei probabilmente trovato Xiao e invece non è così quindi dobbiamo sperare che succeda lo sai Gabri è che lo so che voi siete lì impazienti se volete vedere le pull ma io non posso farlo ai primi 5 minuti di live sennò la live è già finita penso positivo sì io penso positivo voi dovete pensare insieme a me allora iniziamo ragazzi ai battle royale cosa sono tipo fortnite perché se sono tipo fortnite la risposta è no però se me ne dici anche altri magari ha qualcosa giocato nella mia vita forse dubbito allora 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 sono pronta a clippare siamo pronti allora non esce sicuramente in queste prime 2-3 pull da 10 faremo solo pull da 10 perché sono tante quindi ce le togliamo andiamo? datemi il via spam di emoticon per la prima pull da 10 io devo finire di vederlo quindi no allora partite con un bel spam di emoticon forza portatemi fortuna voglio fare come lori prima pull da 10 troviamo Xiao smettiamo di pullare fino a quando esce Xiao oh mio dio speriamo sarebbe bellissimo non mi è mai successo io trovo sempre i personaggi in dalla sessantesima pull in su quindi ce l'è d'acqua che deve passare sotto i ponti siamo pronti? sì siamo prontissimi vedo proprio che siamo tutti pronti quindi andiamo via vabbè dai ragazzi non aspettiamoci chissà cosa alla prima pull da 10 non esageriamo il pit adesso è a 11 qualcuno tenga il conto allora se dovesse uscire per caso una bella barbarina io sarei felicissima ho una diona stavo per dire chi mi manca quindi comunque nel caso diona l'abbiamo trovata non l'abbiamo ancora mai trovata quindi benvenuto nuovo personaggio scusate faccio la foto perché la faccio sempre la metto su instagram poi la foto dei nuovi personaggi quindi niente ero rimasta indietro questa non ce l'avevo e quindi dovevo fotografarla quindi bene diona è arrivata nel team nei miei pg poi non sarà mai utilizzata probabilmente come Xiang e Beidu che sono le uniche due che ho a livello 1 praticamente che non ho mai utilizzato di striscio non so usarla ma carina è una healer ragazzi per me c'è Barbara ma per tutti noi c'è Barbara soprattutto su questo canale non può che esserci Barbara tra i nostri preferiti no? abbiamo la vera Barbara come dite voi ok ok abbiamo finito le sfere andiamo soltanto di Primogen finchè riusciamo forza no Cici è il mio preferito eh io l'ho detto se se proprio non mi volete dare ciao sarei contentissima di un Diluc e di una Cici mi piacerebbero anche gli altri perché sono molto pg che non ho ma preferirei loro due ma non usciranno quindi panico ok andiamo con la seconda forza forza e coraggio di già ah ah eh 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 pazzesco pazzesco patrimonio dell'UNESCO oh mio Dio e adesso chi è è la fronte è la fronte oh mio Dio ragazzi ragazzi speriamo sia ciao oh no oh no no zitti 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 per piacere zitti zitti andiamo oddio adesso tutte le Q non sappiamo qual è zitti zitti zotte un'altra di ora oh mio Dio si 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 oh mio Dio si non bisogna pull oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio ragazzi non ci vedo no ragazzi no no ragazzi venti pull nemmeno venti si venti ragazzi è la seconda summon da 10 kri mi ha portato ragazzi è kri kri ci ha portato fortuna ragazzi kri ci ha portato fortuna non commento non commento ragazzi kri ci ha portato fortuna ha scelto lui posto luogo personaggio ma rima kri scegli sempre te quello che devo fare oh mio Dio mi rifiuvo capri no capri non mi odiare no oh mio Dio ragazzi questa la devo mettere perché cioè salve the guardian of the adepti salve 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 Grazie a tutti.